Ora ti mostro la cosa più bella che abbia mai filmata. Era uno di questi giorni in cui tra un minuto nevica e c'è la città nell'aria, puoi quasi sentirla. Mi segui? E questa busta era lì che danzava con me, come una bambina che mi supplicasse di giocare per 15 minuti. E' stato il giorno in cui ho capito che c'era tutta un'intera vita dietro ogni cosa. Un'incredibile forza benevole che voleva sapessi che non c'era motivo di aver paura. Mai. Vederla su un video è povera cosa, lo so, ma mi aiuta a ricordare. Ho bisogno di ricordare. A volte c'è così tante bellezze nel mondo che non riesco ad accettarlo. Il mio cuore sta per frenarmi. Fri. 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 Fri.